Un delitto Ecco che cosa ha visto il primo testimone Ed ecco che cosa ha sentito il secondo testimone Capito tutto? C'era lì una femmina Sì, sì, era E perché sta parlando così? Perché è sordo, ma non è stupito La loro è una malattia contagiosa E da chi abbiamo preso la menstrua? Non guardarmi, non ti sento Jim Wilder, Richard Pryor Giovedì alle 20.30 su Rete4 Menstrua! No, no, mio Dio No